e ci troviamo all'interno del design per l'estrazione dei gironi della fantacoppa 2010 è una persona seria che fa le estrazioni? Francesco vedete una volta per uno tireremo un bigliettino A B il nome l'aveva tirata la camera un vicino il vicino il girone A prima squadra spiertese di salute sempre il primo lo spero e vado girone B prima squadra pisciareggia pisciareggia girone B girone A seconda squadra è I Ching I Ching 4-11 tirata dopo la tiro I Napoli campione seconda squadra girone B dopo pisciareggia Napoli campione per te ne mi attivano è complicato non prendiamo così via terza squadra girone A Sigurus Sigurus prendiamo un'altra terza squadra girone B Realfa mazzani girone B terza squadra che squadra che cazzo di girone d'ho quella colonna sonora non sono poi tiriamo l'uno alla volta girone A quarta squadra atletico Banguf girone B quarta squadra se c'è il corrigino è lei armata rossa incredibile l'ultima squadra che va a comporre il girone A è il culuto di Fotimax vedete l'uomo culomax più culuto del mondo culomax l'ultima squadra ovviamente con la parte dovrebbe essere Ripido vediamo se è lui è lui è lui Ripido quindi ricapitolando girone A spiertese 15-4-11 esimi Zicarus atletico Banguf e Frojimax girone B picciareggio picciareggio Napoli Campione Realfa Mazza Armata Rossa e Tripido il cesso e collegamento direttamente dal B-Side grazie e una buona serata grazie Grazie.